Conservare la memoria, guardando all'Europa e ai valori che le ispirarono per una pacifica convivenza e il messaggio dell'annuale commemorazione a Gonars di quanti vennero internati nel campo di concentramento. Uomini, donne e bambini provenienti dall'allora Jugoslavia, numerosi cui persero la vita. Il cimitero di Gonars dal 1973 ospita un sacraio con i resti di 453 vittime del campo. E proprio qui ha avuto luogo la cerimonia, la presenza dei rappresentanti di istituzioni e associazioni italiane, slovene e croate. Il presidente del Consiglio regionale Jacop ha rimarcato l'importanza di quel processo per la pacificazione che condusse a una dimensione europea unitaria. Per una memoria duratura è condivisa pure l'appello del sindaco di Gonars, Marino De Frate. La memoria si mantiene attraverso questo tipo di iniziative, di interventi e attraverso soprattutto l'insegnamento nelle scuole di quello che è successo. Stiamo parlando comunque con i sindaci di Visco e di Palmanova e quindi vorremmo che questa memoria fosse non solo per Gonars. Duro il monito dell'Ampi provinciale che ha condannato ogni tentativo di riabilitazione del fascismo come in raduno nei mesi scorsi a Gorista della Decima Massa e Leonardo Lutti. Che il fascismo è un crimine, non è un'opinione e di questo sono fermamente comito. Il fatto che siamo qui oggi a ricordare queste cose lo dimostrano che il fascismo è un crimine. Presente alla commemorazione gli ultimi quattro sopravvissuti ai campi di Gonars e Gris. Il ricordo di quel periodo e dei familiari morti provoca ancora oggi un pianto ininterrotto. Grazie.